Sindaco, finora a Carro si sono registrati purtroppo due casi positivi di coronavirus? Sì, abbiamo registrati al Ponte Santa Margherita, che è una frazione del mio comune, ed è confinante con il comune di Sesto Godano. Il tabaccaio che ha continuato il suo lavoro come da decreto purtroppo ha incontrato il virus e di conseguenza sono intervenuti gli operatori dell'ASL che l'hanno ricoverato immediatamente, hanno fatto di conseguenza i tamponi sia alla moglie che ai familiari, è risultata positiva purtroppo anche alla moglie che sta facendo la sua degenza in casa. Ecco, in questo momento la categoria più disagiata è sicuramente quella degli anziani, voi avete anche una casa di cura nel vostro comune, come è la situazione? Per gli anziani esterni nella casa di cura portiamo gli alimenti a casa, le medicine a casa tramite il servizio della pubblica assistenza croce verde di carro, mentre invece per gli anziani della casa di riposo, devo dire che siamo intervenuti tempestivamente, abbiamo preso tutte le precauzioni, c'è una buona condotta da parte di chi gestisce la struttura, ogni volta che gli operatori entrano e escono, si misurano la febbre, fanno i controlli prescritti così dal decreto e di conseguenza per il momento siamo riusciti a contenere questo fortino, ci auguriamo che resista anche più avanti nel tempo.